Salve a tutti ragazzi, sono Alvri ed eccomi ritornato. Purtroppo in questi giorni non ho registrato perché sono stata in Romania ed eccomi tornato, vediamo un po' che mi ha portato Babbo Natale. Allora, prendiamo le forbici. Intanto vi farò vedere un regalo al giorno e gli altri li apriremo a camera. Oggi vi faccio vedere il primo e lo scatto anche. Sì, è bello questo. Allora, come vedete i regali prima di tutto sono uno, due, tre, quattro, cinque e quando ne avevo chiesto solamente tre, vabbè, è così direi. Allora, questo è Giant Crystal e è scienze e gioco ed è tipo un gioco dei cristalli e vedremo un po' come funziona un altro giorno. Dal vostro carissimo Alvri è tutto, vi auguro una buona giornata, ciao!